ok va dalla mano allora signori opzioni obiettivi video motion blur no abbiamo un po di questo ciao godnap buonasera è frustrante ma anche questo malta che un po non tipo 11 ore per finirlo c'è paura slot vuoto dai diciamo la età normale normale aspetta i volumi ok a posto si si volumi direi che ci siamo ok aspetta le occhie non è normale difficile a posto a posto non vedevo l'ora guarda ah ok mi muovo già nido delle rondini andiamo un po il destino oh salve buonasera ciao buongiorno in realtà qua sotto non è che c'è qualcosa ma guarda che fa? ah ok non è che cazzo non è che cazzo oh nooo che spettacolo guardalo che bello che carino è che cazzo non è che cazzo eh non ti conviene guardare che fa? che fa? si ma quello lì se ne va no l'ha rapito si ma si è fatto infinocchiare quello allora dai mi è uscito un po' ecco a posto un po' di qua c'è qualcosa si guarda si ma questo non posso non mi fa più saltare lì scusa ah ok posso andare qui no il tizio è andato lì sopra non ci posso andare questo lo scaccia sogni lo scaccia coso quello oh salde ah non l'ha rapito e l'ha cioè l'ha portato lì per farlo volare volere volare oh pala l'ha che bravo buona ma cos'è una pera a mela? è quella di crash che schifo si mangia i vermi i vermi inverno oh che bello ancora mi è scivola sui ghiacci oh che di nome e di fatto vabbè ce lo mettiamo ambaravaci ci di cocco vediamo un po' com'è la spazione questo vuol bestemmiarlo bene oh il naro lo sentirono ok vanni si vola dai 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 aia s'a rotta minchia ma c'è una cosata senza piume ma è rotta sul serio quindi ah devo rincorrere aspetta un po' qui sotto non è che c'è la spazio t'è una minchia ma è una scheggia eh salve eh io non la farei piccina dai pulce è capito guardi anche te sa che guardi cose di le opere da fare di adesso piano piano la risposta insieme nel passato vediamo un po che metto questo sì sì ma anche a te ok è acquisito una robita mentre si in volo premi rt per planare liberamente o cavalcare le torri delle torri le correnti del vento quindi c'è tipo fico così guarda che bravo che spettacolo volino dove va metta ecco qua to tieni scusa guarda cosa ho qui dietro non si vede to tieni lo vuoi lo so più ma no più ma la domanda dai potrebbe funzionare vediamo secondo me funziona allora dormi non lo so cioè allora eh già potrebbe funzionare incolliamo come nuovo più o meno eh infatti devi incollare la storia no no aspetta no 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 di qua no ma che ehi ma allora no 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 non voglio andare su no dai dai mona e vaffanculo voglio andare su non è che c'era un segreto no scusi io voglio tornare lì ma su c'è per forza qualcosa no no altri tasti no ah che succede va sì no porca funziona sì ci abbiamo fatto che spettacolo che spettacolo che spettacolo vabbè momenti di grande gaming speriamo di no comunque a livello visivo vedi che non occorre il grafico nel cioè non occorre il stile come fa cioè non dico che graficamente è fatto molto cioè quali colori c'è ok a posto possiamo tornare a casa adesso non c'ho paura non farti venire in mente delle strane perché qua non c'è che cazzo che cazzo sono sono un 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 veloce cazzo ecco no non c'è non c'è Corallo Corallo Corallo, per forza Per forza Mortacci tua No, no Cazzo No, 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 no No Puta Separati dalla tempesta Ecco, inizio la nostra storia